Ciao, benvenuto in Soluzione Z, benvenuto nel portale della pianificazione fiscale internazionale. Se sei qui è perché probabilmente hai dei grandi progetti per la tua azienda, se sei qui è perché probabilmente hai capito che il mercato italiano non è abbastanza. Non è abbastanza per te, non è abbastanza per i tuoi servizi, non è abbastanza per i tuoi prodotti, non è abbastanza probabilmente per il tuo fatturato. Probabilmente si è arrivato a un punto in cui hai capito che internazionalizzare e sì la chiave per la ricchezza, ma probabilmente anche per la salvezza economica del tuo business. Ora, internazionalizzare non è una cosa estremamente semplice, non è una cosa immediata. Non te la venderò come la cosa più facile da fare al mondo. Di fatto non lo è e se sei un imprenditore sai come è meglio di me che i costi e i rischi per affacciarti sul mercato internazionale, europeo prima e mondiale poi, sono altissimi. Penso al magazzino, al costo degli interpreti per tradurre il tuo servizio, il tuo prodotto se sono in lingua italiana, penso alla traduzione del materiale grafico, penso agli stand che dovrai pagare per rappresentarti alle fiere, penso ai rappresentanti che dovrai utilizzare, agli agenti che dovrai utilizzare per vendere i tuoi prodotti, per far conoscere i tuoi servizi in giro per il mondo, penso alle sedi commerciali che dovrai aprire in tutto il mondo, penso a quanto sia difficile oggi trovare distributori affidabili e poi ancora occuparsi delle spedizioni, dei costi di raddoganali e tutto questo farcito da permessi, burocrazie, avvocati, brevetti, pubblicità, marketing. Questi sono soltanto alcuni dei costi e dei rischi da prendere in considerazione per chi vuole fare un passo così importante e tutte queste cose purtroppo sei meglio di me che costano un occhio della testa. Ma il problema vero, il problema più importante probabilmente è che nonostante la tua azienda in questo momento sta avendo un ormai successo devi pagare le imposte in Italia. Non è sbagliato pagare le imposte in Italia ovviamente, il problema è che lo Stato italiano si mangia il 60% dei tuoi profitti. Tradotto vuol dire che i soldi che ti restano in tasca non sono sufficienti per coprire i costi che abbiamo appena elencato, che sono i costi minimi per pensare di internazionalizzarsi, per pensare di affacciarsi ad un mercato che non è più evidentemente sufficiente a soddisfare le tue esigenze. Ma allora, come fai a sostenere l'internazionalizzazione della tua azienda con questa pressione fiscale? Bene, sicuramente i soldi sono necessari e sono un punto di partenza importante. Il problema è che lottare contro uno Stato del genere non è facile, soprattutto non hai intenzione di sbatterti, di fare una fatica di pazzi per vendere il tuo prodotto, il tuo servizio in giro per il mondo e poi doverti ritrovare a fare i conti alla fine dell'anno e ritrovarti pochi spiccioli nel portafoglio. Probabilmente ti sarai domandato, ti starai domandando, ma come hanno fatto allora i grandi, big, a ridurre al minimo le imposte? Come fanno Facebook, Google, Dolce & Gabbana, Benetton, Starbucks, i grandi della moda, la stessa Ikea e i grandi gruppi multinazionali a ridurre al minimo l'imposizione fiscale? E soprattutto come fanno a non avere o quasi poi problemi con il fisco, perché parliamoci chiaramente, la demonizzazione che i media fanno delle attività, della pianificazione fiscale di questi grandi gruppi, nel 99% dei casi resta tale, cioè non ci sono, non arrivano poi le misure, le contromisure degli Stati in termini di nuova legislazione o del fisco in termini di sanzioni effettive, perché di fatto questi grandi gruppi multinazionali si muovono grosso circa all'interno della legalità e i dati lo dimostrano. Lo sai per esempio quanto ha risparmiato Facebook in Inghilterra solo nel 2014? Ti posso dire che ha pagato solo 4.000 stirline allo Stato inglese, quindi tu capisci che il risparmio fiscale è impressionante. Attenzione, questi non sono dettagli marginali, questo è il segreto del loro successo, sai molto meglio di me quanto siano importanti i numeri della tua azienda, se sei un imprenditore farei conti tutti i giorni con i numeri, perché ci sono i fornitori da pagare, perché ci sono i clienti da escutere, perché ci sono i dipendenti da pagare, perché ci sono delle cause in corso, e ci sono gli avvocati, eccetera, eccetera. E soprattutto perché alla fine dell'anno ci sono le tasse da pagare. E allora parliamo un po' più dettagliatamente di numeri e te ne do uno su tutto, 10. 10 è il numero che devi prendere in considerazione. Sui tanti paesi che ci sono in tutto il mondo, l'Italia è uno dei 10 paesi in cui il carico fiscale è più alto. Ora, i soldi ti servono sicuramente per fare nuovi investimenti, altrimenti non staresti pensando di internazionalizzare, e per condurre una guerra sacrosantissima contro la concorrenza. Uno dei tuoi problemi in questo momento, probabilmente lo sai, ma se non ti stai ancora guardando al di là del confine italiano, ti manca un tassello, è quello della concorrenza, la concorrenza non solo italiana, ma la concorrenza straniera, perché la concorrenza delle aziende stranieri ovviamente è presente anche nel mercato italiano, ma a maggior ragione sui mercati esteri decuplicherà la sua presenza e la propria artiglieria nei tuoi confronti. E qual è il grande vantaggio della concorrenza straniera nei tuoi confronti? Il grande vantaggio della concorrenza straniera è la pressione fiscale che le aziende straniere vedono applicate nel loro paese. Tradotto in numeri, questo vuol dire che se mediamente sul prezzo di vendita finale il tuo margine è del 20%, tolte le tasse, tolte i costi, è di circa del 20%, per un'azienda straniera il margine post vendita, quindi tolte i costi, tolte le tasse, è per lo meno del 40%. Questo che cosa vuol dire? Che mediamente è un'azienda straniera rispetto a te il 20% di utili, il 20% di risorse finanziarie in più per combatterti, perché i tuoi concorrenti sicuramente utilizzeranno questi soldi per migliorare il prodotto, per abbassare il prezzo finale, per rafforzare la rete di vendita, per tagliarti fuori fette di mercato e penetrare magari un paese prima di te. Di fatto, con il 20% di ricarico di vantaggio, i tuoi concorrenti possono fare tantissime cose e nessuna di queste cose è per te ovviamente una buona notizia. Probabilmente in questo momento in cui tu stai facendo i conti di cui ti parlavo prima e ti stai arrovellando sui costi da pagare, c'è qualche tuo concorrente che già sta pensando con la sua maggiore liquidità qual è il prossimo mercato, qual è la prossima nicchia di clienti finali da aggredire. Ma la concorrenza straniera non è l'unico tuo problema, ne è un altro, se non altrettanto grande, sicuramente altrettanto importante, che è quello della concorrenza italiana. Devi sapere che tantissime aziende italiane oggi stanno adottando misure di pianificazione fiscale internazionale, tantissime. Tantissime sono le aziende, i numeri sono impressionanti, soltanto nel 2015 delle aziende che hanno chiuso o aperto all'estero che si sono spostate direttamente all'estero, principalmente nei paesi dell'est, ovviamente, principalmente per motivi economici, per motivi fiscali. Quindi sono queste aziende i tuoi nemici in questo momento e devono ringraziare anche l'apertura dell'Unione Europea a nuovi paesi, soprattutto però nel bacino dell'est Europa. Come avrai capito, hai nemici letteralmente dappertutto. E se non cogli le nuove opportunità, rischi di trovarti con strumenti poco adeguati per affrontare la guerra commerciale che tutti i giorni si svolge sotto il tuo naso e tutto intorno a te. Sì, lo so, i soldi sono una risorsa importante e vanno spesi oculatamente, soprattutto nell'interesse di quello che è meglio per te e per la tua azienda. Ma, per come la vedo io in questo momento, se sei qui, hai due alternative. Soluzione numero uno, lasci perdere l'internazionalizzazione della tua impresa e ti limiti a vendere il tuo servizio o il tuo prodotto in questa pozzanghera minuscola che è il mercato italiano. Ma, a questo punto, la mia considerazione è tanto valeva aprirsi una tabaccheria piuttosto che aver costruito capannoni industriali, aver assunto dipendenti per poi trovarsi alla fine dell'anno con lo stesso utile di una tabaccheria. E quindi sono sicuro che questa soluzione tu non la vorrai prendere in considerazione. La seconda soluzione che ti offro è quella della pianificazione. Pianifichi e ti spandi. Io posso aiutarti a ridurre fortemente il carico fiscale della tua azienda mentre tu ti dedichi alla strategia commerciale, all'implementazione sul mercato mondiale. Questo è quello che si dice in gergo calcistico un attacco a due punte. Tu aumenti gli incassi, io ti riduco le perdite. Questo è un attacco vincente e ti assicuro che così non ti batterà più nessuno. Immagina per un attimo che cosa significa ritrovarsi con quel 20% in più di cui parlavamo prima di incassi. Senza però dover far nulla perché parliamo di un lavoro che si fa una volta ovviamente fatto da me e dal mio team e poi ti darà i suoi frutti per sempre. Però facciamo attenzione per poter accedere a questo tipo di vantaggio a questi servizi che ti sto offrendo devi appartenere a una delle seguenti tre categorie. Numero uno hai un'azienda che vende all'estero e possiede già delle sedi all'estero. Numero due hai un'azienda che già vende all'estero ma non hai ancora delle sedi all'estero. Numero tre hai un'azienda che non vende all'estero ma vuole iniziare a farlo. Se sei un imprenditore e rientri in una di queste tre categorie allora questo è il posto giusto per te. Lasciami l'email ci vediamo al video successivo in cui ti spiegherò in cosa consiste il tax planning internazionale esattamente e come ti può essere di aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.